Stasera il Presidente arriva a Washington per una visita di Stato di tre giorni, dice l'Eseco, su invito di Joe Biden. Indebolita dall'aumento dei prezzi del gas in Europa, da una politica America First ritenuta protezionistica, la Francia vuole una risincronizzazione delle agende americana ed europea, indicano fonti dell'Eliseo all'Eseco. La guerra in Ucraina ha messo alla prova la forza dei legami tra gli alleati della Nato, ha anche esposto però l'Europa nuove vulnerabilità, prima fra tutte l'aumento dei prezzi dell'energia. E allora Parigi ora vede con preoccupazione questa determinazione degli Stati Uniti che, dice l'Eseco, si armano per attirare nuovi investimenti anche attraverso misure protezionistiche con i 52 miliardi di dollari dedicati ai semiconduttori e poi quei 370 miliardi di dollari in dieci anni per accelerare la propria transizione energetica. È una visita che giunge in un clima, diciamo così, sintetizzato in Francia dalla copertina dell'Express di questa settimana. Gli Stati Uniti sono loro i grandi vincitori della guerra. Poco più di un anno fa la vicenda dei sottomarini australiani, lo schiaffo inferto dal nostro amico americano. Ora l'Inflation Reduction Act.